Sono state 5 le persone a Pozzuoli denunciate per rissa dai carabinieri nel corso di un servizio di contrasto a fenomeni di illegalità, messo in atto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. I militari sono intervenuti poco prima delle 2.30 nella discoteca Tonga, in Via Napoli, dove un 35enne pregiudicato di Giuliano è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Alla furiosa rissa, scoppiata per motivi non ancora chiariti, hanno preso parte anche un altro pregiudicato di 27 anni ed un 22enne, anche loro di Giuliano, e due residenti di Pozzuoli di 35 e 25 anni. Arrivati i soccorsi, l'uomo è stato medicato in ospedale per una ferita alla fronte. Nel corso degli accertamenti, fin anche il titolare della discoteca è stato denunciato perché aveva adibito a parcheggio una vasta area sottoposta a sequestro per abusi edilizi. Inoltre, nella discoteca Deja Vu, i carabinieri hanno sequestrato la cucina per carenze igienico-sanitarie. Dopo questi ultimi episodi di violenza, però, è arrivato finalmente un fine settimana tranquillo. La task force voluta dal prefetto, che ha visto impegnati vigili urbani, carabinieri, polizia, guardia di finanza e volontari delle varie associazioni, tra sabato e domenica ha tenuto sotto controllo i punti caldi della movida putiolana. Grande è stato il dispiegamento di uomini e di mezzi messi in campo da tutti i corpi impegnati nelle attività sul territorio. Soddisfazione è arrivata dal comandante del corpo di polizia municipale, Carlo Pubblico, che è sceto in strada sabato sera insieme ai propri uomini. È stato un fine settimana tutto sommato tranquillo, ha dichiarato il comandante. La gente ha capito e apprezzato l'impegno profuso da tutte le forze dell'ordine. La sensazione è che finalmente qualcosa stia cambiando, ha poi aggiunto, come dimostrato dalla collaborazione che abbiamo ricevuto proprio da cittadini e commercianti. I locali in particolare sono stati interessati a controlli sulle emissioni sonore, sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori e sul rispetto delle ordinanze relative alla vendita di alcolici nelle fasce orarie attraverso le modalità previste, oltre che al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Esito positivo ha avuto anche il piano traffico messo in campo dagli agenti della Polizia Municipale, che ha scongiurato le abituali code e il caos lungo le strade di Pozzuoli. Grazie a tutti.